Io mi chiamo Cardilli Antonio, vengo dalla provincia di Torino, Leni precisamente. Ho deciso di fare questo trattamento per i denti perché mi avevano diagnosticato al mese di marzo 2023 la parontite o piorea, non so come la chiamo. Mi trovo decisamente soddisfatto e sono più che contento. Quando sono entrato qui la prima cosa che mi ha chiesto il chirurgo in sala operatoria mi ha chiesto qual era il mio obiettivo e io subito gli ho risposto che il primo obiettivo era quello di poter sorridere, cose che non potevo più fare e più che altro masticare che è indeterminante per la salute e per il proseguo dei miei anni. Il chirurgo mi ha prima sportato tutti i denti che avevo ancora, avevo ancora 15 denti, 8 sopra, 7 sotto. Ho trovato persone molto alla mano, affabili e professionalmente validi. Ecco, devo dire che hanno un ottimo equip e mi hanno lasciato una bellissima esperienza. Gli amici e familiari non credevano, come non credevano anch'io ai miei occhi, non gli ho raccontato tutto quello che ho visto qua, che ho appurato, ho constatato di persona e loro sono rimasti meravigliati, specialmente i miei familiari. Potete immaginare che la soddisfazione immensa per loro è per me, quindi sono stato gratificato da questo. Decisamente non ho avuto nessun timore, nessuna sorpresa. La cosa che mi ha sorpreso è che è stato veramente un giudizio positivo per quello che ho visto, che sto constatando. Non posso che consigliare effettivamente di percorrere questa mia esperienza. Le persone col sorriso, lo diceva anche Charlie Chaplin, un giorno senza un sorriso è un giorno perso. Per cui, vedete che è importantissimo. Eccolo qua, va bene così?